I diritti sono di tutti e per tutti e non solo di alcuni e per alcuni. E' questa la considerazione che muove gli eventi del Week Pride, organizzato dall'Abruzzo Pride e presentato questa mattina a Pescara in una conferenza stampa che si è svolta nella Casa Arcobaleno di Via Quarto dei Mille. La settimana di appuntamenti farà dunque ritorno in Abruzzo con la chiusura prevista a Pescara il 6 luglio e porterà con sé un messaggio di inclusione, celebrazione della diversità e impegno per i diritti della comunità LGBTQ+, come spiega Fabio Milillo, portavoce di Abruzzo Pride. In realtà non si parla più di Gay Pride ma parliamo di Pride. Il Pride infatti diventa una lotta intersezionale. Sono tante le istanze che andiamo a richiedere, tra cui quella di una legge nazionale contro l'homo lesbo e bi-transafobia che continuano ad essere presenti. Ovviamente andiamo a richiedere tutto ciò che concerne l'autodeterminazione delle persone. Quindi il diritto all'aborto, che risulta essere un diritto quasi inaccessibile in Abruzzo. Il diritto ad esprimersi liberamente anche col proprio corpo, quindi l'attacco alla grassofobia, all'abilismo, quindi la discriminazione contro le persone con disabilità. Il diritto all'essere libero fino alla fine, quindi anche di una legge che possa permettere l'accesso all'eutanasia che anche quello non è permesso in Italia. Abbiamo un grande documento politico che abbiamo diffuso ieri pomeriggio, dove ci sono tutte quelle che sono le istanze, tra cui la posizione in quello che è il conflitto israelo-palestinese, quindi appoggiando la Palestina che sta subendo non solo un momento di oppressione, ma anche di quello di un vero e proprio genocidio. L'evento, giunto alla sua quinta edizione, mira a riunire persone di tutte le età, generi e orientamenti sessuali per celebrare la diversità di essere se stessi e per promuovere la parità e l'accettazione. Tanti gli appuntamenti in programma, anticipati da Manuela Di Nardo, portavoce di Abruzzo Pride. Inizieremo domani 30 giugno sul pontile di Francavilla al Male, nel foyer, con un talk sulla cura, sul concetto di cura e poi con una serata danzante sul pontile, che abbiamo chiamato appunto Diritti all'Orizzonte, proprio per simboleggiare l'inizio di un percorso che con una bellissima transumanza attraverserà tutta la regione. Lunedì poi con gli eventi di Chieti, martedì saremo a Teramo e mercoledì saremo all'Aquila. Giovedì e venerdì ci saranno una serie di eventi sul territorio pescarese, tra eventi teatrali, musica e talk, conferenze eccetera. E poi si concluderà il nostro percorso di transumanza con il bellissimo e coloratissimo corteo del 6 luglio. I dettagli del programma sono consultabili dove? Sui nostri social, Instagram e Facebook. Si possono anche raggiungere i nostri canali di Telegram, qualora si voglia partecipare attivamente come volontarie. Per consultare il nostro documento politico, sempre tutto sui social con il link al nostro sito www.abruzzopride.it